Ormai siamo giunti all'inizio di un po' di preparativi per questo centenario della Cairese, solo un anno e mezzo che sono stato nominato presidente, ormai penso che i tempi siano maturi per preparare qualcosa di importante che faccia fare la differenza, anche perché le società che possano ambire a questo traguardo sono poche, qualcuna l'ha già raggiunto e noi siamo veramente a un passo. La mia nomina di presidente già di un anno e mezzo fa era una nomina anche fatta per costruire qualche cosa in virtù di questo centenario, di costruire qualcosa con la prima squadra, come titoli sportivi, come categorie, ma non solo questo, anche a livello giovanile, è stato di fatto grande scorso, posso dirlo con tantissima felicità, ambizione e quant'altro. La Cairese ha raggiunto il titolo di scuola calcio d'elite, scuola calcio d'elite vuol dire avere tanti tanti ragazzi, abbiamo tesserati oltre 300 e vuol dire anche ragazzi di grande qualità, anche perché vanno poi a riempire le cose di squadre anche più importanti della Cairese, perché bisogna anche ammetterlo certe cose, però adesso vediamo il comitato che si è andato a costituire, che cosa farà di livello, sicuramente sono fiducioso che farà cose buone e poi vedremo il da farsi.